Ciao, ciao a tutti, rieccomi di nuovo con un video. Lo so che l'ultima volta vi avevo detto che avrei fatto nuovi video, ho aperto il nuovo canale, avrei fatto tutorial, schemi e tante cose, però poi non mi sono fatta vedere più. Però vi assicuro che per chi mi conosce bene, insomma, sa il motivo per cui non mi è stato possibile. Adesso ci sto riprovando, sperando di non dirvi che voglio fare questo e quell'altro e poi non mi faccio vedere più. Spero proprio di essere più attiva questa volta. Allora, per poter ricominciare ho pensato di fare una cosa. Innanzitutto vi mostro l'orecchino che adesso sto indossando. Ce l'ho in due colorazioni per mostrarvi appunto questa lavorazione. Qui è il colore rosso e bronzo e da quest'altra parte è turchese. Poi ve li mostro meglio da vicino e lo faccio subito e poi vi spiego con la videocamera girata quello che voglio fare perché la luce mi dà fastidio agli occhi. Ok, allora ecco qua gli orecchini visti da vicino. Come potete vedere sono fatti solo di perline rocaille della Miyuki 80, 11, 0 e 15, 0. E di questi orecchini avevo fatto anche di un'altra versione che però una mia amica le ha presi e quindi non ce li ho ma magari alla fine vi metto le foto di tutti e tre questi orecchini. Allora, qual è lo scopo di questo video come vi dicevo prima? Ho deciso di fare un contest come ho fatto anche in passato per regalare a 5 persone lo schema di questo orecchino. E per poter partecipare a questo contest però bisogna essere iscritti al nuovo canale. Infatti io metterò questo video sia sul vecchio canale che sul nuovo, sotto al video del vecchio canale metterò il link del nuovo canale così che se volete partecipare cliccate su questo link, entrate nel nuovo canale, vi iscrivete, magari attivando anche la campanellina che serve per farvi arrivare la notifica del nuovo video, sperando che ne faccio. E quindi una volta iscritti potete scrivere sotto al video sul nuovo canale che partecipate a questo contest e dopo 10 giorni dalla pubblicazione di questo video io farò una sorta di sorteggio e 5 persone potranno ricevere con una mail in regalo questo schema. Ok, sembra di aver detto tutto, per chi invece non è interessato allo schema e non è interessato a fare questo tipo di lavorazioni, ma vi piace questo orecchino, magari mi fate sapere, vi spiego come potete averlo. Ok, allora, detto questo, io diciamo il mio desiderio è appunto di fare in modo che possa poi pubblicare solo sul nuovo canale, perché altrimenti finché non siete tutte iscritte sul nuovo canale devo fare il video, inserirlo sia sul nuovo che sul vecchio, però piano piano voglio fare in modo che l'altro canale io non lo chiudo, però magari lo lascio un pochettino fermo. Detto questo, io spero sia in tante, insomma, a partecipare a questo contest e a venire a iscrivervi sul nuovo canale. Spero veramente di tutto cuore di riuscire a continuare a fare i video, di nuovo di rompere il ghiaccio, insomma, per poter fare nuovi video, mostrarvi le nuove creazioni, video tutorial e quant'altro. Spero veramente con tutto il cuore. Ok, vi saluto, vi abbraccio e alla prossima. Ciao!